No, diciamo Alcetti, Alcetti, tu ti puoi presentare in arabe o no? Come si chiama? Alcetti, fammi attenzione per favore, tu ti puoi presentare in arabe per favore. Io solo si concentrati su un po' di gioco. Si, se fosse un po' di gioco. In arabe? Hm? Presenta te i in arabi. In arabi, è e! E allora si e tu mi presentare il gioco, il gioco. Il bello mothafucka di s*** che mi ha detto Non mi preoccupare niente Non mi preoccupare niente E non mi preoccupare niente con te mani Quindi s***a e f***a E f***a e f***a E non mi preoccupare niente E f***a e f***a 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 Tu hai una cosa per dire O no? No E tu i figli E tu i figli No no Guardi tu i figli Stasera Ti aspetto uno E tu dormo Va bene Vai